Ciao raga, Ride5, nuovo aggiornamento importante, moto in più... Ciao raga, Ride5, è uscito un aggiornamento importante con nuove moto e piste E adesso evento serie Endurance M1000 Almeria Sono tre gare da 20 minuti, questo è solo un giro Tacco il tempo Con la... La Honda Naya mao Cambiato anche la tuta, molto meglio, cambiato anche un po' la fisica, sembra Oro in 1.41 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 1.38 ecco adesso ti esce anche la scritta meglio così più bello così cosa in più andiamo partirò indietro perché nella qualifica c'era la pioggia la recupero non è importante ecco qua difficoltà sempre 80 è il livello più basso del difficile cioè da 80 in su comincia difficile Grazie. 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 Ibox. Anche passando sulla ghiaia però. Per mettere la media dura. Fare il pieno. Devo fare sette giri. Benzina per sette giri però non hanno risparmio. A full no. Modalità pioggia. Motore modalità pioggia. Per mettere la media di 그런 krijgieri. Per mettere un piede Unile. Fai se siente. Per mettere i correttori. Per mettere il piede. Saicela. Per mettere i correttori. Fai se siente. Inolno. Fai la città. Grazie a tutti. 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 rientro. per mettere su. a tutti. no, ma non è possibile. non è possibile. media, 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 media. a tutti. 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 a tutti.